Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Normal K-Rug, la scarpa di Kilian Jernet, la scarpa di Normal più d'alta gamma con il quale ci garantiscono dei migliori performance. Adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dal peso. Taglia 42, queste K-Rug vengono dichiarate con un peso di 200 grammi. Nel mio solito 47 arriviamo sui 250, che comunque non penso di aver mai provato delle scarpe così leggere, quindi già il peso può essere un fattore molto interessante per questa calzatura. Ma iniziamo ad analizzarla come al solito dalla suola. Qua troviamo una Vibram Mega Grip con tecnologia Light Base. Come sappiamo la tecnologia Light Base è una tecnologia che va a ridurre un pochino l'altezza del battistrada in modo tale da farlo pesare meno. In generale troviamo dei tasselli alti 3.5 mm, come potete vedere sono dei tasselli molto grossi e non tanto distanziati l'uno tra l'altro. Questo vuol dire un ottimo grip praticamente quasi ovunque, proprio proprio la roccia quando è super scivolosa lì si tende un po' a scivolare. Ma quello che non mi ha convinto è sul fango. Avendo un tassello così poco alto e così poco distanziato, sul fango fa abbastanza fatica e si tenderà molto a scivolare. Sempre restando sulla suola, molto apprezzato il fatto che la suola corre da tallone a punta senza avere punti dell'intersuola esposti. Per quanto riguarda l'intersuola troviamo un nuovo materiale, l'Expur, che è decisamente molto interessante perché ci garantisce un ottimo cushioning, con un'ottima reattività ed anche una parte di leggerezza. Infatti come dicevamo questa scarpa è molto leggera, però vi assicuro che anche correrci a ritmi sui 4,4 km la reattività si sente. Non dico che è all'altezza di una scarpa con piastre in carbonio, perché lì siamo su un altro mondo, però per scarpe non in carbonio penso che questa sia la calzatura più reattiva che io abbia mai provato. Ma come performa questo Expur? Come vi dicevo ha un ottimo cushioning, una scarpa che anche se andremo ad utilizzarla su lunghe, lunghissime distanze non ci darà grossi problemi. Abbiamo un drop di 6 mm caratterizzato da un'altezza sul tallone di 23,5 e 17,5 sull'avampiede. Soprattutto sull'avampiede non è così alto, quindi comunque poi vedremo anche questo cosa vuol dire per chi è pensato a questa scarpa più avanti nel video. E finendo parlare di intersuola, com'è la sensazione quando corriamo? Noi sentiamo le radici, i sassi sopra i quali mettiamo il piede, perché comunque abbiamo le percezioni dove stiamo andando a mettere il piede, ma non sentiamo dolore. Quindi anche se prenderemo una roccia particolarmente appuntita, non sentiremo male, ma capiremo che stiamo passando su una roccia. Ma saliamo ancora e arriviamo a parlare della tomaia, iniziando dal puntale. Un puntale che ha un grosso fascione in gomma per proteggere e non far rovinare il tessuto. Però non è molto resistente, non è molto strutturato, infatti io andando a premerlo riesco facilmente a fletterlo. Questo cosa vuol dire? Che quando andremo a sbattere contro qualche roccia, contro qualche radice, sentiremo abbastanza il colpo. Personalmente avrei preferito comunque un puntale giusto, un pelo più rigido, proprio per non sentire male quando andiamo a sbattere sulle radici. Continuando, tutta la tomaia è fatta in tessuto Matrix. Il Matrix è un tessuto che abbiamo già visto su altre calzature, è decisamente resistente. Questo sicuramente è molto molto traspirante. La traspirabilità l'ho provata in delle giornate particolarmente calde del mese scorso e devo dire che è assicurata. Salendo, continuiamo, arriviamo a parlare del tallone. Un tallone che è comunque abbastanza classico, non troppo strutturato, nemmeno troppo morbido. Quindi una scarpa che strizza l'occhio soprattutto con le persone magari non troppo principianti, ma che hanno già un certo tipo di moscolatura. Ecco, una scarpa che comunque ci aiuta nel momento in cui magari dovessimo avere una qualche svircolata a tornare in carreggiata. Quindi anche il tallone personalmente mi ha convinto e soprattutto mi ha convinto il fatto che è abbastanza basso. Non essendo troppo alto non avremo neanche problemi con tendine d'Achille o roba del genere. Per quanto riguarda poi tutto il collare, la linguetta, il collare è decisamente classico, bello imbottito, non crea pressione, quindi ci possiamo correre a lungo. La linguetta invece non è per nulla imbottita, è una linguetta cosiddetta a soffietto e in questo modo praticamente va a farci sentire molto più feeling tra il piede e la scarpa. Questo però ha un pochino svantaggio dei lacci, nel senso che quando andiamo a stringere veramente forte un pochino i lacci sul collo del piede lo sentiamo. Però per il resto resta ferma, il piede calza bene, quindi comunque io mi ci sono trovato abbastanza bene. Sono solo io che forse gli stringo veramente forti i lacci. Ed infine, visto che ne stavamo già parlando, i lacci, anche qua la lacciatura molto classica, è il laccio molto classico, a tramatura fine, quindi non ho avuto nessun tipo di problema da questo punto di vista. Per quanto riguarda la soletta invece, questa è integrata nella scarpa, non possiamo toglierla e anche se dovessimo utilizzare una soletta ortopedica o qualche altro tipo di soletta dobbiamo per forza andare ad aggiungerla sopra a quella già presente e in generale come sono trovato, allora diciamo che ci sta. Ci sono solette decisamente migliori, ci sono solette decisamente peggiori, diciamo che è una soletta nella norma, nulla di eccezionale. Due cose di cui voglio parlarvi per quanto riguarda la calzata di queste K-Rag. Innanzitutto l'avampiede. È abbastanza generoso. Non siamo a livello di scarpe proprio super wide, però comunque diciamo che si pone tra una scarpa wide e una scarpa diciamo normale, quindi un po' di spazio in più lo abbiamo. E una cosa che non mi ha tanto convinto è la larghezza del mesopiede. Praticamente in questo punto qua, tra il nostro tallone e la punta a metà del piede, è decisamente molto stretta. Questo fattore all'inizio me l'ha fatta un po' odiare, nel senso che le mettevo su e avevo abbastanza male al piede e non riuscivo a correrci a lungo. Dopo una cinquantina di chilometri più o meno si è smollato e lo sento comunque decisamente molto molto stretto. Però diciamo che un pochino si è andato a smollare. Unica cosa, fate attenzione quando la dovrete a comprare perché è una grossa discriminante. Insieme anche alla lunghezza di questa scarpa. Io ho preso il mio solito 47 ed è decisamente lunga. Pur essendo dichiarata per i soliti 30 cm, io vi assicuro che ci passa abbastanza spazio rispetto alla punta. Io penso che per me personalmente, nonostante io porti un 47, forse un 46 sarebbe andato meglio. Ma come al solito, prima di acquistarle, soprattutto per questi modelli, vi consiglio di andare a provarle in negozio. Per queste KERAG ci tengo anche a fare una piccola precisazione per quanto riguarda la sostenibilità, perché è un punto forte dell'azienda Normal. E qui analizziamo tre punti. Il primo, materiali, il Matrix, da quello che viene detto dall'azienda, è un materiale che per realizzarlo serve decisamente meno acqua rispetto a un competitor del Matrix. Quindi già qua abbiamo un risparmio dal punto di vista ambientale. Secondo punto invece, è che questa scarpa, almeno da quanto dice l'azienda, un giorno che l'avremo finita e la andremo a buttare, sarà molto più semplice smaltirla, perché tutte le parti sono decisamente semplici da disassemblare e da riciclare. Quindi anche qua ci fidiamo di quel che dice l'azienda ed è un ottimo punto per quanto riguarda la sostenibilità. Ma il terzo, e secondo me il più importante, almeno per quello che riguarda la nostra corsa e le nostre tasche, è che questa scarpa è decisamente durevole. Con una scarpa del genere, secondo me, arriverete tranquillamente a farci tra gli 800 e 1000 km. E questo è molto importante perché è una scarpa durevole, ci permette di utilizzarla più lungo e non dover andare a comprare un secondo paio di scarpe per fare lo stesso numero di chilometri. Perciò, tiriamo le conclusioni per queste Normal K-Rag. Allora, a me sono piaciute. Sono scarpe che comunque andrei a consigliarvi per distanze decisamente lunghe. Sono scarpe anche un pochino polivalenti, perché con queste qua ci farei tranquillamente da una 35 km a una 100 miglia. Sono un pochino più stento a consigliarvela per la roccia, soprattutto per il puntale che non è super rigido e non è neanche tanto rigido il tallone. Però, in generale, per quanto riguarda magari delle corse un pochino più tranquille, con single track, un po' di sterrato, sì, magari anche qualche roccetta, sicuramente possono andare bene. Il prezzo è decisamente alto, 180 euro per questo tipo di scarpa è alto. Però, come vi dicevo, innanzitutto abbiamo delle tecnologie decisamente nuove, un peso molto contenuto e soprattutto la durabilità. Con un paio di scarpe da 180 euro ci possiamo fare 1000 km. Altrimenti, magari, ci troveremo a spendere, che ne so, 120 euro per un altro paio di scarpe, però 120 euro per 500 km, capite che alla fine andremo a spenderne 240 per farne 1000. E a quel punto lì avremo speso di più che prendere una singola K-Rag. Per quanto riguarda, invece, a chi la consiglierei, come vi dicevo, secondo me, principiante, non penso. Da questo punto di vista, forse le Tomir sono sempre di normal, più consigliate. Però, non avendole provate, non ve lo so dire. Questa qua, secondo me, è una scarpa per un pubblico, diciamo, da meta classifica in su. Se siete proprio dei principianti, queste scarpe le lascerei un po' stare. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauramente risaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!